La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it 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 Il Premier interviene sulla questione virus e gestione pandemia. Vediamo il titolo, virus Draghi per la linea dura, lo stop allo sci di Speranza dopo il via libera del Premier in linea con il rigore di Merkel e Macron. Tensione con la Lega e il Ministro Garavaglia, decisione irrispettosa. Il Comitato Tecnico Scientifico serve un giro di vite. E andiamo avanti, l'appello sei mosse per sostenere la ricerca di alto profilo. E poi, tour operator, se volete turisti a Sorrento dovete vaccinarvi. Pesa su Sorrento, l'imperativo dei tour operator, niente turisti se non vi vaccinate. Andiamo avanti, ci spostiamo di fondo. Nuove strategie, il lockdown non basta contro il Covid e poi le idee comunicare senza ripetere l'effetto spot. Centro pagina, i parlamentari del PD, Sud riequilibrare con i sottosegretari la protesta dalla Campania all'Abruzzo, ma Zingaretti deve recuperare le donne. Se non è un terremoto nel PD è comunque un piccolo sisma sul piede di guerra per la partita della nomina dei sottosegretari. Ci sono i parlamentari del Sud e le donne, tutti imbufaliti per la poca rappresentanza. E poi l'intervista Rubettino, mezzogiorno, aiuti inutili senza strategia. Nella fotonotizia il calcio nella vittoria contro la Juventus del Napoli, infortunato anche Lozano, quindi ancora cresce il numero dei giocatori in infermeria per il Napoli. Rivediamo per il mattino, si parla di Napoli crack, anche Lozano KO salta sei partite. La sfortuna Ospina fermo dieci giorni, oggi tampone a Coulibaly. Andiamo in alto, nei box sotto il titolo di testata, verso Sanremo, Fedez e Michelin, distanziati e favoriti, non conta vincere. Poi il libro, Gatti, i miei consigli per salvare il pianeta dall'inquinamento. Andiamo in basso, gli esteri, Dubai, Pizzini e Cavoi, misteri del medico sgozzato, il ginecologo napoletano morto a Milano. Questa è la prima pagina del mattino nazionale, andiamo avanti sempre sulle prime pagine. Andiamo a Salerno, sulla prima pagina del mattino di Salerno, vediamo la sicurezza, movida di carnevale, c'è la stretta. Napoli chiude le piazze dei giovanissimi a Santa Teresa. Lungo mare aperto, ma più controlli, residenti, agenti in borghese, multe o sarà inutile, lira degli esercenti, perderemo altri clienti. E ancora l'ambiente, a Malfi, il giorno dei sopralluoghi, scattano i blitz anti-abusivismo. Sempre per l'ambiente, per lavoraggine di coperchia, scarichi illegali sotto accusa. Andiamo nella fotonotizia, la frana, l'intervento in via Croce costerà 400 mila euro, il comune chiamato all'esborso. Per le altre notizie, la scuola stoppa le lezioni nell'agro e nel vallo, ma al tempo i contagi, il fai da te dei sindaci. E poi il racconto, contagiato in USA, mi hanno salvato con la cura Trump, polverino, dirigente ASL per l'emergenza, gli anticorpi monoclonali, arma vincente, covid, dopo il parto della figlia. E ancora la pandemia, vaccini, ora tocca gli insegnanti, 590 già prenotati, 11 mila in attesa. Per le notizie di spalla, la riflessione, la voglia d'aria dei ragazzi e la vita vera che perderemo. Andiamo in basso, le altre notizie, serie B, attacco a singhioso, Madiuric deve rifiatare, le punte stentano, Gondò e Anderson sperano in una chance, questo per la Salernitana. Le altre notizie, nelle foto non c'era, omicidio barbarulo, ergastolo a Mariniello, il delitto eccellente. Poi a Cava dei Tirreni, l'amante giù dal balcone per sfuggire al marito, il tradimento scoperto a Cava dei Tirreni. Chiudiamo anche la prima pagina del mattino di Salerno, andiamo avanti, andiamo sulle cronache, vediamo invece quali sono i principali temi per le cronache. Il titolo di apertura costrinsero Soglia a rinunciare all'hotel Raito, mano pesante dell'accusa. Sono accusati di estorsione turbativa d'asta, chiesti oltre sei anni per Fedele Ragosta e Francesco Delle Cave. Due uomini puntarono la pistola contro l'imprenditore per farlo rinunciare alla struttura. A centro pagina, vaccinazioni nelle aule Covid, sono partite le prenotazioni sulle piattaforme dedicate, riguarderanno docenti e personale under 55. E poi ancora Carnevale, le origini della festa dai mille volti, il primo rito di primavera. Le altre notizie a Eboli, Vito Bisogno, i giovani devono aggiornarsi di continuo. Ancora torniamo a Carnevale, a Salerno, il sindaco Napoli chiude alcune piazze. Di fondo il fatto stabilizzazione dei precari dal Tar arriva il Via Libera. Pagani bufera su De Martino per la diretta Facebook, mentre De Prisco attacca l'Asle. Poi rileggiamole insieme a Fredo Greco con l'aroma della mia pipa presi da Alessio e De Feo. Questi titoli per la prima pagina di Le Cronache. Andiamo sulla prima pagina della città. Si parla ancora di Covid, si parla delle varianti del Covid. Vediamo virus inglese scatta l'allarme e De Luca vuole Sputnik. In Campania la temuta variante colpisce un infetto su quattro, la regione punta sul vaccino russo. Questa è l'ipotesi della regione Campania. Andiamo avanti. Per le notizie di fondo, l'ordinanza, il sindaco apre il lungomare ma chiude le piazze a Salerno per la giornata di Carnevale. Oggi ricordiamo Martedì Grasso e poi il caso, quei quotidiani condivisi su UA dai fratelli Pirata. Ancora Salerno, voto al comune e nasce l'alleanza in stile Draghi. Per le notizie di spalla, Salerno, frana e caos, mezzo milione per via Croce. Questo l'importo necessario per la messa in sicurezza dopo la frana. Vietri sul mare, estorsione a soglia, IPM, condannatelo. E poi ancora Salerno, Scarano, corruttore, sentenza annullata. Nocele inferiore invece uccise Barbarulo e Ergastolo per il boss. Vediamo come chiude la prima pagina della città. Scafati, ecco il cimitero delle Targhe. Vincenzo Coppola le conserva per restituirle ai proprietari. Salernitana, Nuova Tegola, Mantovani e Diuric che si fermano in vista della prossima gara. Queste le prime pagine dei nostri quotidiani. Torniamo ora sul mattino nazionale. Andiamo ad approfondire alcuni dei temi che abbiamo già visto. In particolare si parla del governo e del primo atto del nuovo governo, quello emesso dal ministro Speranza che a distanza di poche ore dalla riapertura ha deciso di chiudere nuovamente gli impianti sciistici. Vediamo il titolo sulle pagine di primo piano perché questa decisione crea già delle frizioni all'interno del governo. La prima lite è sullo sci, lega contro Speranza, ordinanza irrispettosa. Garavaglia è assurdo che un ministro decida da solo, ora indennizi immediati. Il ministro di Leu, prima la salute, il braccio di ferro, si sposta ora sui ristori. Salvini va subito in pressing sul Premier per varare i provvedimenti a favore del settore. Il decreto a cui sta lavorando il tesoro contiene gli aiuti per tutti i settori colpiti dalla crisi. Intanto in basso il caso Sorrento, il diktat dei tour operator, niente turisti se non vi vaccinate. Migliaia di prenotazioni a rischio disdetta, senza garanzie, non portiamo clienti. I timidi segnali di ripresa del mercato americano del turismo rischiano di infrangersi di fronte ai ritardi accumulati nelle vaccinazioni degli operatori del settore. Nelle chat pianificano i programmi di viaggi e soggiorni. La certezza di poter contare in Italia sul personale immunizzato rappresenta una prerogativa essenziale per poter anche rilanciare il settore e tornare ad avere i turisti sulla penisola. Andiamo avanti, sempre per quanto riguarda il tema Covid, ma soprattutto la gestione del governo, della pandemia. Vediamo che dal neopremier arriva la linea dura per quanto riguarda la gestione. Il premier per la linea dura e i virologi basta esternare. Domenica il colloquio con Speranza, poi il via libera al giro di vite per lo SCI. Il ministro difende il sistema dei colori. Draghi deciderà entro il 5 marzo se cambiare. Il presidente del Consiglio fa riferimento alla linea europea anche per la gestione Covid. Sotto esame il meccanismo cabina di regia, comitato tecnico-scientifico, ma è probabile che venga confermato. Andiamo in basso. Chiusure, tecnici d'accordo, unica arma contro i contagi, ma divisi sulla praticabilità pregliasco. Dobbiamo tenere conto del disagio economico e sociale, cauda, responsabilità o misure drastiche. Chiudiamo anche questa pagina, andiamo avanti sempre su questo tema, o meglio non soltanto sul tema della pandemia. Vediamo quali sono i 5 punti su cui il governo Draghi è pronto ad intervenire. Quindi i 5 punti essenziali del programma di governo Draghi. Vediamo il programma alle camere, piano Draghi, la nuova Italia in 5 capitoli. Domani il premio è rinserato per la fiducia tra i punti, sblocco delle infrastrutture e denominatore ambientale. Vediamo pandemia, nuovo sistema sanitario e digitalizzazione dei dati, un grande welfare su base territoriale che riporta i medici nelle case dei pazienti. Ancora vaccini, più personale e sedi, accelerare le dosi, subito il siero per il personale dell'istruzione e farsi trovare pronti quando arriveranno i nuovi sieri in autunno. Ancora solidarietà alla coesione sociale, come filo conduttore vanno azzerati di vari territoriali e conflitti tra Stato e Regione perché nessuno resti indietro. E ancora continuiamo, vediamo quali sono gli altri punti del programma che arriverà alle camere. Giovani, scuole aperte più a lungo e risorse per i docenti, una crescita stentata, deprime le aspirazioni dei giovani e prelude al regresso del sistema. Per quanto riguarda invece il punto legato all'Europa, investimenti per le riforme di fisco, giustizia civile e pubblica amministrazione, l'occasione del recovery non può essere sprecata. E con i punti nell'agenda del nuovo premier Mario Draghi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torneremo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati con la seconda parte della nostra rassegna stampa, andiamo sul mattino di Salerno, si parla di scuola, soprattutto anche per quanto riguarda il maltempo. Perché negli ultimi giorni si sono moltiplicate le ordinanze sindacali per quanto riguarda le chiusure. Chiusure per casi di covid accertati all'interno delle scuole, ma anche chiusure per il maltempo, come è accaduto nel Vallo di Diano, dove gran parte dei comuni nella mattinata di ieri avevano emesso proprio ordinanze di chiusura delle scuole, soltanto tre i comuni che invece hanno lasciato le scuole aperte. Vediamo il titolo per quanto riguarda tutta la provincia di Salerno. Scuole chiuse, stop e in go, tra virus e maltempo, il fai da te dei sindaci. Niente lezioni in tanti centri dell'agro e del Vallo di Diano, bersagliato dal gelo, resistono in presenza Salerno e Pagani, ma monitoriamo la salute degli alunni. Le preoccupazioni variante inglese e consigli dell'Asla hanno c'era scafata e polemica per le scelte in extremis. Con il passare delle ore la scuola torna ad essere al centro dell'attenzione a causa della pandemia. Le amministrazioni comunali stanno verificando se è prudente in una fase nella quale l'attacco del virus è costante e in alcuni casi in aumento lasciarle aperte. La preoccupazione arriva dalle notizie fornite dall'unità di crisi regionale che indica nel 25% la presenza della variante inglese del virus. Su un caso ogni quattro tamponi positivi sul territorio campano, l'altra novità è rappresentata dai suggerimenti forniti dall'Asla ai sindaci, ai quali viene chiesto di valutare la necessità e l'urgenza di provvedere alla sospensione delle attività scolastiche in presenza. Andiamo in basso, Unisa sfida all'ultima app, quante idee contro il Covid, 18 progetti per 54 studenti, spiccano i sistemi per la visita virtuale ai musei e per tenere le distanze in azienda. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti sempre sulle pagine del mattino di Salerno, ancora pagine di primo piano, il racconto del contagio da Covid negli Stati Uniti salvato con la cura Trump. Vediamo, io contagiato negli USA ho rischiato di morire, salvo con la cura Trump. L'odissea a lieto fine di Mario Polverino, sovrintendente Asla per l'emergenza virus, ho accettato gli anticorpi monoclonali, sono l'arma vincente contro la malattia. Immune in Italia, pur frequentando tanti presidi Covid, è stato colpito in America, l'infezione giunta da un ospedale. Il prof e la moglie infettati dalla figlia è tornata anche lei a casa con il Covid dopo aver partorito la sua secondogenita. Per il tema vaccini tocca ai docenti, dopo gli anziani 11.000 in attesa, Salerno 590 già pronti, meno test trattati, ma l'unità di crisi contro altri 227 infetti, picchi nel capoluogo e a scafati. Ancora code e disagi all'unità speciale allestita nell'ex Vigor Vietri assurdo, dovrebbero essere almeno due sedi. Al via la vaccinazione anche per gli insegnanti salernitani, dopo la via della campagna per gli ultraottantenni, parte in settimana l'inoculazione di circa 11.000 dipendenti della scuola. Sono già 600 solo in città, quindi solamente a Salerno, i docenti che hanno offerto la disponibilità a vaccinarsi. Chiudiamo anche questa pagina, andiamo avanti sempre sul mattino di Salerno, vediamo quali sono le notizie provenienti dalla Piana del Sele, dal Cilento, dai Picentini e dal Vallo di Diano. In apertura andiamo a Montecorvino Pugliano, un anno e sei mesi a molestatore seriale, incubo delle ragazzine, condannato il trentenne, che adescava studentesse minorenni, episodi ripetuti anche a Salerno e Battipaglia, dove si appostava. A Eboli reflui nel Sele, nei guai un allevatore di bufale, mentre a Caggiano, neve e gelo, ancora disagi SOS in tutto il Vallo di Diano. Continuano i disagi, soprattutto nella zona del Vallo di Diano, a Burni e Tanagro, a causa del gelo e della neve, che da sabato scorso sta colpendo l'intera provincia di Salerno, in particolare l'area a sud del capoluogo. Ancora una volta a Caggiano, tra i comuni più alti della provincia, si confronta con le problematiche dovute al freddo, alle temperature polari e al vento. In basso, Eboli, dirigente, impiegato comunale infetti, altri 5 in quarantena e allarme, mentre a Battipaglia, comando vigili urbani, 11 candidati in corsa. Per le notizie di spalla, andiamo a Battipaglia, scontro tra auto a Spinetra, madre e figlia in ospedale, due auto ieri mattina si sono scontrate a Spinetra, verso la Litorania, in prossimità di una curva da vedere la peggio. Una donna, 39enne, Battipagliese, la figlia di 12 anni, erano a bordo di una Opel Corsa. E a Castellabate, dal parco, il restyling della Duna, in zona Lago. Questi sono alcuni degli articoli che troverete pubblicati sul mattino di Salerno. Andiamo ora sulle cronache, invece. Anche qui si parla delle vaccinazioni prossime ad essere vaccinati. Dopo gli over 80, le cui vaccinazioni sono in corso, ci saranno gli insegnanti. Si toccherà quindi ai docenti delle scuole salernitane vaccinarsi. Come abbiamo visto, già sono numerosi quelli che si stanno prenotando. Vediamo. Scuola, vaccini per tutti i docenti e non. Dal 10 febbraio scorso si è aperta ufficialmente la campagna di adesioni che prevede due passaggi differenti. Partirà in questa settimana, presso i centri vaccinali dell'Asli di Salerno e nelle scuole, la campagna vaccinale per il personale docente e non docente. Dal 10 febbraio scorso si è aperta la campagna di adesioni che prevede due passaggi differenti. Sulle piattaforme dedicate deve essere prima l'Istituto Scolastico a caricare l'elenco del personale. Questi ultimi, a loro volta, devono poi aderire alla campagna su di un'altra pagina del portale. Al momento dell'adesione si dovrà inserire il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e fornire un indirizzo mail e un recapito telefonico che saranno poi utilizzati per la convocazione. Queste le regole per prenotarsi per le prossime vaccinazioni che dovrebbero quindi iniziare a breve anche per il personale docente e non docente delle scuole salernitane. Andiamo avanti, l'ordinanza carnevale al centro, il sindaco chiude alcune piazze principali in vigore dalle 9 alle 22 di oggi e siamo a Salerno. Torniamo a parlare di Covid in campagna, il 25% dei casi positivi appartengono alla variante inglese. E' in atto un'azione di monitoraggio costante sulla diffusione di varianti, De Luca, necessarie le vaccinazioni. Andiamo in basso, Buoni Spesa, Sportello Pit di Mariconda, aiuto nella compilazione delle domande, la cooperativa sociale Filiderba offre la sua assistenza gratuitamente fino alla scadenza del 22 febbraio. Chiudiamo questa pagina, restiamo sempre sulle cronache, andiamo avanti nelle pagine della provincia, Andiamo a Eboli, Cardiello chiede un distaccamento del reparto prevenzione e crimine. La richiesta è stata sottoposta all'attenzione del commissario prefettizio Antonio De Jesu. Continua l'emergenza sul fronte dell'ordine pubblico nella città di Eboli. Episodi ripetuti si consumano con cadenza quasi giornaliera, creando un vasto allarme sociale nella popolazione residente. Il candidato primo cittadino per le prossime amministrative, Damiano Cardiello, si fa allatore di una proposta in merito, chiamando in causa il commissario prefettizio De Jesu, che ha rivestito nella sua lunga carriera anche il ruolo di vice capo della Polizia di Stato. La campagna elettorale alle porte non può e non deve far dimenticare i problemi reali della nostra città. Ancora Eboli, sversamento illecito di reflui zootecnici, denunciato un allevatore l'operazione del nucleo provinciale delle guardie ambientali. Centro pagina, Ponte Cagnano, riapertura del sportello dell'Asis, la richiesta arriva dal Circolo di Fratelli d'Italia. La missiva trasmessa anche al consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Annunzio Carpentieri. E a Castellabate, giovedì, la celebrazione della solennità del Santo Patrono è stata posticipata di un giorno, in quanto il 17 febbraio coincide con il mercoledì delle Ceneri. Chiudiamo anche questa pagina, chiudiamo le cronache. Andiamo ora sul Roma, vediamo quali sono invece i principali temi, anche di carattere nazionale per il Roma. Vediamo, in apertura si parla di virus, si parla in particolare delle varianti Covid che sono arrivate anche in Campania. Abbiamo visto il 25% dei casi Covid appartengono alla variante inglese. Paura variante, questo è il titolo. In Campania un positivo su quattro ha il virus inglese. Guerra sul lockdown litigano anche i ministri. E ancora un casertano capo di gabinetto di Draghi, Grillo, prova a frenare la scissione, sottosegretari, quattro campani in Pol. E poi sgominato traffico internazionale, droga dalla Campania, 15 in Manette, a Foggia. In Basilicata, Agricoltura Lucana, Sportello della CIA per i finanziamenti agli imprenditori. Vediamo ancora per quanto riguarda la politica, ci spostiamo di fondo. L'arsenale e l'anarchia identitaria del governo Draghi, le ideologie da tempo erano già scolorite, ma il minestrone proposto dal governo Draghi corre il rischio di far perdere ai partiti ogni aspetto identitario. Le spigolature, Super Mario, transizione sì, ma a tutto campo. E poi l'opinione, le degenerazioni del politicamente corretto. Avremmo un conte terre. Questa è la soluzione per uscire dalla crisi che attanaglia il Paese. La decisione del Presidente del Consiglio di rassegnare le dimissioni. E poi l'intervento, il ricordo delle foibe che divide gli storici. Andiamo in alto. Lo Sport, Napoli, emergenza totale contro Granada e Atalanta. Si fermano anche Lozano e Ospina. E poi strage Bologna. Bellini alla sbarra, accusato di essere l'esecutore con Catracchia e Segatel. E con la prima pagina dei Roma termina la nostra rassegna stampa. Io vi ricordo come sempre l'appuntamento con il nostro Tg alle ore 13.45. Grazie per averci seguito. Auguro a tutti una buona giornata. Grazie per averci seguito.